Ora, se compriamo un cacao con un azucar, io penso, per fare il sorveggio, penso un po' non una burrice, ma penso una cosa errada, perché? Perché, all'interno che abbiamo meno fibra, cioè il prodotto che dà il sapore al cioccolato è meno, e adesso stiamo pagando l'azucar al prezzo del cacao, e un chilo di azucar costa 2,50, non costa se l'ha 30, 40, 20 o che sia, evite di comprare il cacao un po' azucarato, compri il cacao un po' puro.